Bentornati qua su Fablinker Music per una nuova reaction, questa volta andremo ad ascoltare gli Audioslave, band che conosco di nome ma che purtroppo non ho mai approfondito. Che sia il momento potrebbe essere, intanto io direi di andarci a ascoltare questa canzone che si chiama Be Yourself, sono curioso, devo dire che sono veramente veramente curioso, quindi gli Audioslave con Be Yourself, andiamo subito. L'ho già sentita forse, da qualche parte. Può essere. A voglia! Sous-titrage Société Radio-Canada La conosco, la conosco, o almeno l'avevo già sentita da qualche parte, non ricordo dove, ma sicuramente in radio o così via. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti. Wow. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Porca misera che bella questa canzone ragazzi Questa è una canzone veramente bellissima Ma veramente bella Ma scusatemi eh io ho un dubbio ora Ma gli Audioslave no? Chi sono i componenti della band? Vediamo un po' Ah infatti mi sembrava Mi sembrava Tom Morello Mi sembrava che ci fosse Tom Morello Chris Cornell Il fu Chris Cornell Rimpianto perché Grande amico di Chester Bennington Nel Linkin Park Anche lui purtroppo scomparso Ma lo capisco perché Dicevo ma questi Li ho già visti Questi due Cantante e chitarrista Infatti Tom Morello E Chris Cornell Che di certo non sono I primi arrivati Nella musica rock Però Oh a parte questo Veramente un gran bel pezzo Sicuramente molto famoso Perché ha un sacco di visual Ma infatti l'avevo già ascoltato Però mi è arrivato Nei consigliati di Youtube Ho detto vabbè Sentiamolo Facciamoci una reaction Perché Così nel titolo Non mi diceva niente Perché probabilmente Conoscevo la canzone Ma non conoscevo Il titolo E chi l'aveva fatta Ora ho capito Ora ho capito Però canzone leggendaria Bellissima Veramente Magari approfondiremo Anche gli audio slave Se voi volete Io Sono disposto a farlo Anzi Sicuramente Lo faremo Sicuramente Però mi sono già iscritto Ho già messo mi piace Bellissimo Così vedo anche gli altri Gli altri video Le altre canzoni Vi ringrazio molto ragazzi Per oggi è tutto Se avete altri consigli Se volete parlare un po' Degli audio slave Così via Fatemi sapere E ci becchiamo Ad una prossima Reaction Grazie a tutti ragazzi E alla prossima Ciao